Allora, benvenuti a tutti, bentrovati in questo appuntamento di Consapevolmente Connessi, un appuntamento dedicato appunto ad un viaggio nella comunicazione responsabile e nella comunicazione consapevole. Il progetto è un progetto annuale e ogni mese ha un tema, un approfondimento. Il mese di novembre ci porta al tema dell'ascolto dove il tema dell'ascolto significa a 360 gradi un percorso di appunto analisi, approfondimento dedicato a determinate tematiche che ci permettono non solo una crescita personale e una crescita professionale ma anche a tutta una serie di riflessioni che ci portano in qualche modo a comprendere e ad approfondire certe tematiche. Grazie alla presenza degli esperti e oggi abbiamo l'onore e il piacere mio grandissimo di avere Fabio Corvini, andremo ad approfondire di volta in volta un argomento specifico che ci permetterà di capire molto meglio proprio in maniera trasversale a chiunque che cosa naturalmente significa oggi nello specifico cyber listening ovvero ascoltare il web o nel più diciamo specifico argomento cosa significa intercettare determinate informazioni all'interno del web non solo informazioni ma anche comportamenti ma anche il non detto ma anche capire cosa si nasconde che cosa si eh si cela dietro a determinati comportamenti che oggi sappiamo essere fondamentali da analizzare eh prima appunto con Fabio si parlava del fatto che al al figlio diciamo fai attenzione se ti si avvicina uno sconosciuto mi raccomando vai via non accettare niente all'anziano diciamo senti se ti suonano alla porta mi raccomando se non lo conosci non è una persona comunque nota di famiglia frequentatore eccetera non aprire perché può essere pericoloso con eh il web eh questo tipo di operazione non sempre la facciamo allora eh partirei appunto da da questo aspetto di comunicazione consapevole eh da che cosa dobbiamo stare in guardia? Dacci i cinque elementi eh sui quali rifocalizzare assolutamente la nostra attenzione in questo momento eh ricordandoci che stiamo vivendo in un periodo particolarmente delicato e difficile a un'emergenza sanitaria globale che ci in qualche modo eh isola no ci distanzia dalla nostra socialità fisica e ci porta tutti online dall'insegnante che deve appunto fare formazione a distanza dall'adolescente che passerà tantissimo tempo eh con il suo smartphone soprattutto nel nell'aspetto in cui ehm diventa lo strumento di intrattenimento diventa lo strumento di gioco diventa anche parte della formazione a distanza talvolta e e quindi per l'adulto è una parte di smartphone eccetera quindi ti chiedo veramente iniziamo così ehm brutalmente dacci cinque cose su cui riflettere su cui veramente prestare grande attenzione benvenuto Fabio eh ti chiedo di presentarti brevemente ma ti conosceranno sicuramente in molti ehm ti ringrazio ancora per il prezioso contributo della 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 volta scorsa sul cyberbullismo che eh le persone potranno trovare eh qui online e assolutamente un grandissimo contributo che oggi eh appunto può essere approfondito con una serie di di elementi in più ma naturalmente ehm ti do un grandissimo benvenuto un grazie enorme per per essere qui e ti lascio la parola perché sarà sicuramente un grande piacere allora ehm buon pomeriggio a tutti perché ormai siamo già praticamente in un orario ehm al di là di quello che è di solito il pranzo eh io sono Fabio Corvini mi occupo eh di web education sono un formatore scolastico e anche per enti per comuni informatore pubblico e mi occupo principalmente di sicurezza del web e mi occupo di comunicazione anch'io e vedo come vedete voi ogni giorno che in rete il mondo è totalmente diverso dal nostro cioè perché è totalmente diverso perché abbiamo ehm iniziato a vivere in un modo eh che non è in realtà quello della persona fisica ok e ci siamo ci stiamo mettendo in pericolo pur avendo sempre avuto paura dei dei pericoli ci mettiamo in pericolo noi mettiamo in pericolo i nostri figli mettiamo in pericolo le persone che ci sono più care eh perché non sappiamo in realtà eh come funziona una comunicazione ehm giusta e sicura abbiamo tante apparecchiature per cui con cui accedere alla rete per cui telefoni tablet o computer o portatili computer fissi la casa ehm ma in realtà non sappiamo cosa stiamo facendo praticamente abbiamo smesso di comunicare guardandoci negli occhi qual è il problema vero e proprio che noi non ci rendiamo conto dei rischi della rete non ci rendiamo conto dei rischi perché comunque noi siamo sui social e ci preoccupiamo della privacy senza pensare che dal primo momento che siamo iscritti a un social network la nostra privacy è già scomparsa oltretutto mettiamo a rischio anche quello che sono le nostre cose parlo di ehm dei nostri figli come dicevo prima ma anche delle persone anziane dei nostri parenti dei nostri amici perché postiamo costantemente e continuamente quello che sono ehm foto per esempio che eh riguardano loro noi mettiamo in rete le foto dei nostri figli per esempio in un ehm social network come facebook mettiamo una foto di un nostro figlio lo facciamo apparire come il nostro ehm il nostro idolo ok cioè quel quel ragazzino bravissimo e il mio amore la mia gioia ma non ci rendiamo conto che se noi abbiamo tanti contatti in facebook all'interno di quei contatti molto spesso ci sono persone che noi non conosciamo cosa vuol dire questo i rischi sono due primo voi mettete foto dei vostri figli in rete con il rischio che queste diventano oggetti di cyberbullismo ok perché la foto può essere scaricata può essere messa in gruppo chiuso di facebook assieme ad altre persone questo ragazzino viene bullizzato senza che voi possiate rendervene conto altra domanda questa è una domanda più che altro più che un consiglio siamo sicuri che tra i nostri cinque seicento settecento contatti non ci sia un altro genitore che ha un figlio che ha la stessa età del vostro ma quel figlio magari non arriverà mai a diventare campione di calcetto come il vostro lo è diventato un campione di danza per questo per dire e perché magari è un ragazzo disabile oppure ha dei problemi di di altre fonti o di di altre sorgenti diciamo per cui non può diventare un ragazzo che magari si può dedicare a uno sport o a un'attività che sta facendo questo potrebbe dare fastidio ma poi non ve ne rendete conto perché la psicologia di internet è totalmente diversa dalla psicologia umana esterna ok se io ho qualcosa da dire e vedo vostro figlio che fa dei giochi e robe varie e devo dire che mi dispiace perché il mio non posso farlo non può mai farlo ve lo dico in amicizia voi ve ne rendete conto di questa cosa continuerà a fare le sue cose potrete anche invitare questo ragazzino a vedere quello che fa il vostro figlio magari ampliare una conoscenza o un'amicizia in rete invece no perché magari il figlio di quella persona abita in un'altra città per rispetto alla vostra e voi state già facendo un dispetto appunto a quella persona che è tra i vostri contatti altre cose secondo pericolo i più giovani specialmente tendono a prendere dentro contatti senza controllare senza per chi si siano perché il numero porta ad avere più like il ragionamento l'importante la persona giovane ma anche di tante altre persone che si mostrano su facebook o su altre social anche adulti eh non solo i giovani l'importante è ricevere i like cioè ricevere dei consensi da persone che nemmeno conosci devi fare il numero bisogna avere un numero di seguaci per raccontare su internet che ti seguono tutte persone come se diventare famoso ci si riuscisse solo in questo modo ok pensano di trovare tra virgolette l'aggancio per poter sfondare in chissà che cosa o magari diventare influencer e questo sa i gentori spiegare ragazzi che non si diventi influencer facendo mostrare un prodotto e se poi quella marca o quel prodotto in realtà ehm arriva un certo punto che ti fa bloccare dai social il tuo il tuo modo di fare modo di essere perché non sei autorizzato ok e non si diventa influencer come noi vediamo spesso in televisione o eh in 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 rete anche per esempio su instagram o a 15 mila contatti perché ha un influencer no se fosse veramente così io non sarei qui a parlare con voi ma farei l'influencer anch'io nel senso che ehm come aspetto non sono un granché però diciamo che a livello di eh mi basta prendere mano a qualsiasi marca per esempio non so l'apple faccio vedere che ho il nuovo iphone e allora io divento un influencer no non è così per diventare un influencer devi saper fare l'influencer ok e per cui regaliamo anche questa facilità di comunicazione che in realtà non esiste va bene ma torniamo a noi un attimo se voi fate caso facebook come tante altre social dove si scrive perché dopo parleremo anche di instagram facebook come per esempio twitter ha fatto ehm crescere la dislessia nelle persone la disgrafia nelle persone ok e se io ho quattromila contatti e ne vado fiero perché ne ho quattromila molti mi commentano e robe varie e scrivo gli anche con la k qualcosa che non va ok questo vuol dire non solo perdere contatti ma vuol dire anche fare una brutta figura in rete che non rimane nella tua città ma va in giro per il mondo questa è una cosa da capire ogni cosa che noi postiamo rimane sempre comunque in rete tutto quello che mettiamo che siano foto che siano posto qualsiasi altra cosa rimane in rete nei cloud dei servizi che si fanno usare social network e in qualsiasi momento in qualsiasi attimo della vostra vita se voi anche solo avete offeso qualcuno quel cloud ha la prova di quello che avete fatto per cui anche se cancellate rimane comunque in rete le foto cancellate rimangono in rete ecco bravo Fabio questa è una cosa molto importante perché eh spessissimo le persone ma proprio perché ci manca un'educazione digitale no nessuno ehm ci aiuta eh con corsi con un momento ma non solo scolastico perché alla fine anche l'adulto abbiamo visto nelle nelle percentuali no nelle analisi di scenario eh c'è stato nel periodo di lockdown un più trenta per cento di nuovi utenti in internet che sono una fascia molto ampia una forbice di di età molto ampia e queste persone si come dire approdano giustamente per una necessità di socializzazione e si ritrovano poi a gestire uno strumento senza averne le competenze senza avere quel va de mecum quel eh come lo uso eh che magari ci dà i cinque elementi che ci permettono di usarlo al meglio allora uno dei punti principali sui quali eh mi piace sempre in qualche modo sottolineare e aiutare le persone a ricordarsene è che in internet non si cancella nulla ci sono dei servizi appunto come menzionavi tu e ti chiedo quindi di fare proprio un approfondimento su questo aspetto dove io penso di avere cancellato io penso di avere eh come dire eliminato qualsiasi traccia ma questo non solo appunto dai social network dalla mia pagina del blog eh ma anche proprio sui sistemi di archiviazione che tutti noi oggi utilizziamo eh soprattutto quelli gratuiti di cui ah ma che figo è gratis bene carico tutto mi costa un euro fantastico ci butto su eh cinquantottomila fotografie mi ritrovo un archivio impressionante perché poi oggi scattiamo perché è digitale quindi non c'è più il problema di eh ne scatto una no ne scatto cinquanta e carico tutta questa diciamo soricità soricizzazione della mia vita online eh dove va questa cosa e riflettiamoci un attimo perché qui c'è attenzione ascoltiamo bene il web e ascoltiamo le raccomandazioni perché qui eh si cancella no in internet non si cancella niente allora parto da questo presupposto noi usiamo la tecnologia ma in realtà non la sappiamo usare la sappiamo accendere spegnere scaricare le app che ci interessano ok e poi usarle ma in realtà non siamo mai andati su canali a vedere cosa rischio punto interrogativo ok e la politica postale stessa nel per esempio nel commissarato dps punto it ha dei veri e propri articoli sulla sicurezza io per esempio sono uno dei formatori del del sefer day che è la giornata di internet eh che si fa ogni anno eh a settembre di solito quest'anno l'abbiamo fatto a settembre e no l'abbiamo fatto a febbraio scusate a settembre ho fatto altre cose sempre riguardanti comunque la sicurezza ehm non eh non ci informiamo mai sulle cose che usiamo sui dati che noi diamo alle persone noi per iscriverci a ogni applicazione dobbiamo in qualche modo avere un indirizzo mail che diffondiamo e va a finire nei server di quell'applicazione autorizziamo addirittura alla vendita dei nostri dati quell'applicazione nei confronti dell'azienda ma vi dirò di più su whatsapp noi installiamo applicazioni come whatsapp come eh tante altre in instagram vi discorrendo a whatsapp per esempio noi diamo l'autorizzazione di accedere al nostro album fotografico ok per cui non le vediamo solo noi le foto su whatsapp le vedono anche i gestori di whatsapp cioè quelli che eh usano i server ok non è vero che le vediamo solo noi e questo ci dovrebbe far pensare perché se noi autorizziamo un'applicazione ok è la stessa cosa come quando voi autorizzate una scuola a eh mettere le foto delle gite o dei o delle o delle attività che fanno scolastiche sul sito della scuola firmando solo che noi non firmiamo l'unica firma nostra che diamo è l'indirizzo mail e il numero di telefono noi andiamo a rifornire delle banche dati senza sapere in realtà quello che facciamo ok perché comunque anche le nostre tre foto private che abbiamo nel eh all'interno all'interno del punto del rullino di whatsapp le può vedere chiunque ok il nostro album altra cosa fondamentale da tenere presente io posto una foto su facebook quella foto io ho per esempio 500 utenti va bene ho sempre a che fare con quei 20 o 30 personaggi che mi mettono like mi commentano e tutto il resto gli altri che vedono quella foto chi sono non ce lo siamo mai chiesti voi sapete che una foto di un minore può essere scaricata una media di 5 600 volte a settimana da perfetti sconosciuti e questa foto se compromettente che molto spesso mettiamo i minori in costume al mare il bambino che corre nudo sulla spiaggia può andare ad alimentare il mercato dalla pedofilografia in rete che si trova nella deep web cioè la sottorete di internet molti di voi non sa neanche cos'è la deep web e quello è il problema perché la deep web non solo contiene siti dove non arriviamo ok ma contiene anche l'illegalità la malavita della rete viaggia nella deep web ok e tenete presente che la malavita della rete aspetta il vostro momento di debolezza per poi agire a vostra insaputa dopodiché saltano fuori per esempio ci sono molte persone che hanno tanto di famiglia e si trovano per esempio su facebook o sugli altri altre social network e relazionano con questi perfetti sconosciuti molto spesso la cosa diventa lunga tra le due persone cioè si continua a comunicare perché magari ci si trova bene se parla bene mettiamo il caso che nasca una storia ok io sono di venezia quell'altro è in svizzera parla italiano ci comunque ci capiamo e cominciamo a innamorarci di questo perfetto sconosciuto di cui non conosciamo nulla direi però ok dobbiamo fare un sondaggio delle risposte che ti danno perché se voi fate caso e se siete persone che fate questo tipo di approccio la maggior parte delle persone sono separate in casa ok si comincia a prendere confidenza si mandano foto un po diciamo così poco convenzionali chiamiamola in quel modo poi a si arriva un certo punto che la cosa va di lungo si rompe questa storia e comincio alle minacce io non ti mando più foto perché non voglio più mi marito non vuole a se tu non me le mandi io le metto in rete e comincia il famoso porn revenge ricatto pornografico dal quale non si esce più perché anche quando arrivate in questura fare una denuncia per una cosa del genere siate che voi siete anche responsabili di quello che avete fatto ok e ci sono delle leggi che tutelano voi ma che vi danno anche contro per certi atti specialmente approfondire questo aspetto solo un attimo nel senso che vedi stai dicendo tantissime cose che magari le persone non conoscono così approfonditamente no per cui anche il ragazzino il minore soprattutto può succedere che ci siano queste chat sto scambio così pesante di informazioni e dice ma lui è la vittima attenzione vittima fino a un certo punto come l'adulto è vittima fino a un certo punto oltre che cosa succede cioè spieghiamolo bene perché è proprio l'ascolto di queste cose che ci permette soprattutto di crescere no di capire cosa sta dietro no oltre ascoltiamo allora ne approfitto per dire che sul mio blog che ho in rete qui magari dopo diremo l'indirizzo dillo subito che così prendiamo nota perché sarà una miniera di informazioni www.viverenelweb.blogspot.it dove io tratto anche questi argomenti basta andare dietro nelle pagine troverete anche queste cose c'è anche un articolo support range e cominciamo dai minori noi dotiamo ormai per una questione di comunicazione ok loro dicono mi sento emarginato se non ho il telefono ma in realtà noi diamo un oggetto in mano a bambini dove ci sono ci sarebbero delle leggi precise per prima di dare un oggetto del genere in mano a un minore quali sono le leggi innanzitutto l'età minima per accesso ai social network l'età minima per l'accesso a certi giochi che magari sono violenti oppure che contengono forum dove gli utenti stessi parlano tra di loro il genitore deve ricordarsi che è proprietario della sim card perché comunque la sim card è intestata a un adulto ok o uno zio o un nonno quello che sia in caso succeda un atto di porn revenge e il genitore ne risponde in prima persona perché comunque quando si fanno le indagini si arriva al fatto che il numero di telefono è intestato a un adulto e la prima cosa che si chiede a un genitore quando arriva in chistura è ma lei non controlla il telefono a suo figlio ah ma mio figlio mi impedisce di controllarlo perché ha messo il codice nello schermo e qui siete già in penale perché se voi non avete saputo comunicare con vostro figlio facendogli capire che lui comunque deve attenersi a delle regole la colpa la vostra non è quella di vostro figlio voi dovete controllare quello che fa vostro figlio in rete specialmente in applicazioni come instagram vi spiego perché molto spesso non postano foto nella pagina perché adesso vanno di moda le storie di instagram perché gli influencer la storia in instagram cosa viene che si sentono sicuri perché tanto sanno che dopo 24 ore o 12 ore dipende dalle zone perché anche lì non il paese ha una regola e l'italia un'altra in germania non c'è una una volta che sparisce la storia loro si sentono sicuri esattamente come sta una volta che la vedono nessuno la vede più non è vero ricordate che la storia di instagram basta un hashtag all'interno della storia e questa storia esce sulla pub sulla pagina pubblica delle storie di instagram uguale per le foto se vostro figlio ha un profilo chiuso ma tagga una foto un luogo la foto va fuori dal profilo e va dove ci sono i tag delle altre foto assieme alle altre foto che hanno quel taglio e questo scusami fabio è una cosa molto importante nel senso che eh quando la insegniamo no nella comunicazione con le aziende con attività di personal branding è un modo per incentivare le visite e quindi lo facciamo in maniera consapevole eh i ragazzi come dicevi tu all'inizio proprio della della nostra conversazione hanno questa voglia comunque di emergere di fare follower di essere visti di guardare le statistiche no questa storia da quante persone è stata vista questo video da quante persone è stato visualizzato e quindi utilizzano questo hashtag proprio per incrementare le visite ma eh ovviamente in maniera inconsapevole e quindi diciamolo ricordiamolo no questa comunicazione consapevole e responsabile che cosa ci dice educhiamo quali sono gli elementi di educazione ancora una volta ti chiedo aiutaci a ad avere delle delle accortezze allora cominciamo già da cominciamo da dall'educazione di noi adulti che abbiamo nei confronti dei nostri figli che abbiamo nei confronti dei nostri alunni per esempio o delle persone che frequentiano io sono un formatore che mi occupo di questa cosa a scuola e la prima cosa che dico quando incontro i genitori è proprio questa se io sono a tavola non devo usare il telefono ok perché il tavolo è rimasto l'unico posto di comunicazione della famiglia e già da lì bisogna cominciare ad essere ad essere sicuri eh di quello che si fa perché è logico che se io a tavola usa un tablet mio figlio si sente autorizzato a usare un telefono è logico che se io non faccio vedere a mio figlio cosa ha fatto sul tablet lui non mi fa vedere quello che fa ok ma il problema è che noi non ce ne preoccupiamo nemmeno di questa cosa qua in quanti conoscevano questa cosa di instagram nessuno e dire che l'azienda lo fanno le aziende fanno gli hashtag per attirare persone e poi fanno il calcolo degli users cioè queste persone qui che che cosa vogliono qual è il brand oppure l'oggetto o le cose che comprerebbero di più perché serve a questo un hashtag a parte che bisognerebbe conoscere non mi sto a dilungare che forse c'è sul tuo libro molto utile interessante si trova la differenza tra tag e hashtag bisognerebbe capire questa ma lasciamo parlare non entrare difficile la cosa di cui ci dobbiamo preoccupare è che innanzitutto imparare un'educazione del web un'educazione prima dell'hardware cosa voglio dire un antivirus non ci salva dai pericoli ok un profilo chiuso non ci salva dai pericoli anzi invoglia di più i malfattori a provare ad entrare dentro il profilo chiuso che poi tanto basta un tag uscire nella pagina di quella che abbiamo taggato che noi il nostro profilo l'abbiamo già aperto vi faccio un esempio provate a fare sul vostro sul vostro profilo facebook scrivete mi hanno rubato la bicicletta profilo chiuso eh ho aperto che sia perché tanto funziona uguale mi hanno rubato la bicicletta sotto tutti i commenti a bastardi come solito succedono e anche qui ci sarebbe un'altra cosa dire ma magari approfondiamo dopo se voi aggiornata la pagina non magari al primo click ma secondo aggiornamento sulla parte destra della pagina di facebook vi arriveranno tutti i venditori di biciclette i marchi di biciclette chi le aggiusta e tutto il resto cosa vuol dire questo che bicicletta è un tag e qui torniamo nelle differenze esce da facebook viene mandato agli adsense di google che pagano uno spazio pubblicitario perché vendono biciclette e entra dentro al vostro profilo questo per farvi capire come funziona facebook e perché comunque sempre una comunicazione aperta e soprattutto come anche la rete ci ascolta perché stiamo parlando di ascolto quindi noi dobbiamo imparare ad ascoltare a leggere oltre ad osservare ma attenzione noi siamo anche ascoltati per cui grazie per queste indicazioni perché sono fondamentali infatti da un lato è giusto perché da un lato va bene io ho idea di comprare una macchina non so che macchina voglio comprare un'automobile roba così dico ragazzi ma auto mi consigliereste e vengono giù le pubblicità ma questa è normale che poi non sono pubblicità sono inserzioni che entrano per consigliarvi a farvi capire che esiste quel prodotto ok dopo su questa cosa parlarei un attimo di snapshot però torniamo a noi dobbiamo sempre fare attenzione a quello che scriviamo in rete ok vi spiego perché perché se io scrivo a bastardo e mi hanno rubato la bicicletta bastardi ladri scritto da una persona per un po 80 per cento così che poi in rete scarica legalmente musica e filmati non quadra molto dico bene perché comunque anche tu sei un ladro anche tu sei un malfattore ok molto di più di quello che ti ha rubato la bicicletta perché tu hai una cosa che fai continuativa in rete facile se nascosto nessuno credi ok perché ricordate che comunque gli ip e la rete dei peer to peer che voi frequentate sono sempre controllate ok per cui anche lì ci mettiamo a rischio bisogna saperla usare la rete vi faccio un esempio quando fu creato snapchat snapchat deriva da un'altra applicazione ok che ha un nome russo non mi ricordo snapchat chiamiamo facciamo finta che sia l'applicazione russa era nata per questo motivo qua io ho un'azienda ho una serie di numeri di telefoni producono oggetto lo fotografo lo manda al cliente il cliente lo vede questa cosa si cancella dopo un po non occupa spazio al cliente ma il cliente stesso si ricorda quello che vi produco e se ha bisogno sa da chi l'ha visto e da chi può acquistarlo è questa la rete pulita ok però invece vostri figli la maggior parte di delle volte usano snapchat per fare cyberbullismo fotografo i loro amici compagni li mandano queste in rete prendendo in giro ok pensando che poi quelle cose non rimangano e invece nel server del snapchat c'è tutto in caso di denuncia si arriva anche a ritracciare queste cose altro elemento eh da tenere presente ci sentiamo protetti dietro a uno schermo i nostri figli si sentono protetti dietro a uno schermo su cose come whatsapp o altre altre chat che ci sono tipo telegram e si permettono di prendere in giro le persone a scuola specialmente prendendo in giro i professori ma questo lo fanno anche all'interno dei gruppi delle mamme whatsapp un esempio pensando che tanto rimane dentro i gruppi oppure rimane tra gli amici innanzitutto ricordate sempre che c'è la pecora la pecora nera che in qualche modo lo fa arrivare al mittente quella cosa che voi avete fatto voi lo sapete che bastano un screenshot per lanciare una denuncia adesso non gli importa neanche? Dacci queste indicazioni anche così efficaci perché una delle domande proprio che ti volevo fare è parliamo sempre di adolescenti parliamo anche degli insegnanti che dovrebbero educare assolutamente alla digitalizzazione però a volte ci troviamo di fronte e abbiamo avuto dei dati che ci hanno come dire è confermato questo che anche l'insegnante avrebbe bisogno di un'educazione digitale importante per poter essere ancora più efficace però parliamo proprio di questi gruppi whatsapp non solo di come dicevi tu non è solo il ragazzino che fa la battuta o magari anche poco poco simpatica parliamo delle mamme parliamo del collega di ufficio questi gruppi whatsapp questi messaggi raccontaci bene andiamo oltre ascoltiamo questa logica la battuta brutta che magari ci sembra anche simpatica e uno dice a volte io rimango basita perché dico ma come ti viene una cosa del genere? lo penso tra me e questa invece si sente magari particolarmente simpatica perché ridono tu guarda come simpatica la persona eccetera attenzione che cosa si rischia e cosa dobbiamo prendere in considerazione cioè riflettiamoci bene e ascoltiamo questo questo lato del web che allora comincio da questo tieni presente io lavoro nella scuola e tu lo sai la prima cosa quando una madre parla di madre perché per la maggior parte delle volte sono le madri che fanno i gruppi delle mamme whatsapp che sono tanto famosi questi questi gruppi allora io iscrivo mio figlio a una prima media ok ancora prima di conoscere chi sono i professori si crea il gruppo delle mamme whatsapp e non si sono mai viste in vita loro molto spesso ok a cosa serve il gruppo delle mamme whatsapp adesso vi metterete a ridere ma è anche una grande tristezza se ci pensiamo serve a far vedere che ci sono fatte le unghie nuove dall'amica che fa l'estetista che oggi sono andate a sushi ha messo la foto del pranzo da sushi e questa è l'utilità del gruppo whatsapp quando invece il gruppo delle mamme whatsapp dovrebbe servire era assente quel ragazzino o quella ragazzina c'è stata una comunicazione di classe oppure c'era assente un genitore a un consiglio dove i genitori dovrebbero essere presenti dovrebbe servire a comunicare in questo modo l'utilità perché tu stai parlando di una scuola uguale riguardo ai centri sportivi tutto il resto poi invece quando diventa utile il gruppo per molte mamme quando il figlio prende un brutto voto allora insultiamo i professori più appoggio dalle altre madri più so di aver centrato l'obiettivo lo faccio vedere mio figlio che anche le altre mamme danno ragione a lui e lui si sente rafforzato e si può permettere a quel punto lì di prendere in giro il professore che gli ha dato il brutto voto quando invece dovremmo essere noi prima stabilire il perché hanno dato un brutto voto al nostro figlio comunicando con il professore ma non tramite whatsapp io una cosa che insegno ai professori è di non dare mai il proprio numero di telefono al genitore a meno che questo non sia un genitore di una ragazzina con dei problemi o di alcune di varie sorti può essere che ne so un ragazzo disabile o di chi discorrendo perché altrimenti i genitori si permettono di scrivere in whatsapp il professore e chiedere informazioni e non vanno più alle riunioni questo è un altro punto di comunicazione sbagliata non ci accorgiamo per esempio che i nostri figli fanno gruppi tra amici per prendere in giro quel ragazzo disabile o quello perché è negro come dicono io addirittura in alcune formazioni qua in Veneto non per screditare o sminuire il Veneto mi è capitato in una zona della pedemontana del bellunese dove un genitore ha detto ah no ma io non voglio che mio figlio faccia lavori di gruppo con quello lì che è figlio di un tunisino è figlio di un tunisino e magari suo padre è iscritto all'ISIS siamo nel 2021 ormai con già dei seri problemi e non sto ad encare quali e non sappiamo comunicare siamo rimasti al 1935 in questo modo e se non impariamo ad usare la rete come si deve non impareremo mai a capire quali sono i veri pericoli per i nostri figli siamo noi che prima di dare un telefono a loro dobbiamo avere delle raccomandazioni siamo noi soprattutto e questo è un lato molto importante che dobbiamo limitare l'uso consecutivo di un cellulare da parte dei nostri figli perché non leggono più diventano dislessi diventano disgrafici hanno tantissimi problemi dati proprio dai telefoni perché diventano dipendenti la dipendenza digitale porta alla demenza digitale che è la stessa che vediamo tutti i giorni nei nostri contatti in facebook quando si scrive si scrivono cose assurde che non stanno in piedi fino prima di quest'anno nessuno sapeva cos'era la virologia fino prima di cinque anni fa nessuno sapeva cos'era un complottista oltretutto abbiamo persone in rete che invece che portare avanti un tipo di comunicazione un tipo di utilità anche per le persone straniere che ne abbiamo tanti in Italia per esempio come ne abbiamo tanti in Europa danno contro pubblicamente agli stranieri questo avviene sia dalla parte politica che dalla parte non politica e qui non sto a parlare di partiti perché comunque metto in mezzo a tutti è un calderone e la comunicazione è un'altra cosa la sicurezza dei nostri figli è la stessa sicurezza che dovremmo avere noi in rete cioè conoscere come funziona quell'oggetto che noi usiamo cosa stiamo facendo in quel momento io uso un cloud metto le cose su google drive è gratuito fino a 15 giga le metto lì e nessuno le vede no, non è così perché già il fatto che per condividere una foto c'è la possibilità di fare un link e mandarlo a un nostro contatto voi avete aperto una fonte e non lo sapete fantastico allora siccome stiamo tra virgolette finendo il nostro tempo il tuo tempo preziosissimo perché sei veramente una miniera di informazione ti chiedo allora anche in un po' rispetto a questa infodemia che è esplosa tu hai fatto un esempio ci si informa è vero ci si informa ci si dovrebbe informare però ci troviamo di fronte ad una ad una vera e propria infodemia dove c'è un ma proprio anche per la caratteristica di internet stesso una disintermediazione dell'informazione chiunque può scrivere l'ho letto nella bacheca del mio amico di mio cugino di mio fratello quindi lo reputo una fonte attendibile condivido al di là delle fake news al di là di tutta quella serie di informazioni che poi sono emerse io feci un articolo il 4 febbraio dove dissi appunto siamo in piena infodemia e soprattutto dove un'organizzazione mondiale della sanità nella sede principale ha dovuto attivare un team crisis per pulire da tutte le informazioni negative ma non solo negative e false ma pericolose per la salute del cittadino quindi diciamo una cosa esagerata invece di potersi dedicare a semplicemente distribuire l'informazione corretta ti chiedo e questo ha beneficio di qualsiasi persona come si identifica una fonte affidabile online cioè ci sono delle caratteristiche che ci permettono al di là che il buon senso ci dice vai in un'agenzia di stampa nota vai appunto nelle testate principali di settore che appunto dovrebbero essere affidabili e fornire delle informazioni corrette puntuali precise che cosa possiamo a cosa dobbiamo stare attenti cioè ascoltiamo che cosa e come allora innanzitutto qui ritorno al discorso dell'educazione cioè della web education che bisogna conoscere in realtà veramente quello che noi stiamo facendo in quel momento se vogliamo frequentare siti attendibili chiunque anche i ragazzi a cui insegno sanno benissimo che sull'inizio sulla parte iniziale del nome del sito che noi andiamo a digitare quando appare il link che deve avere davanti HTTPS S sta per sito sicuro c'è il lucchetto aperto o un lucchetto chiuso si può notare in quel modo lì ed è una cosa semplicissima seconda cosa se io posto una foto di www non ce lo dicono punto non so cosa è normale che non è una fonte attendibile le fonti attendibili molto spesso non sono neanche le vere proprie testate giornalistiche a parte due tre o quattro ok perché molto spesso tengono sempre la parte politica però ci sono quelle ufficiali tipo la Repubblica tipo non so il messaggero o altre cose del genere ANSA per esempio ANSA non è una politica è un un'istituzione ok da notizie sono notizie sicure se poi vengono smentite la colpa non è vostra perché se lo smentisce il sito stesso che ha postato quella 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 notizia vuol dire che ci sono stati ci sono stati cambiamenti per esempio per chi si occupa di ecologia per chi si occupa di notizie al di fuori le cosette notizie d'essere c'è l'internazionale l'internazionale è un sito bellissimo che nessuno frequenta eppure è quello più attendibile per quanto riguarda gli fatti gli approfondimenti delle cose che accadono ok perché comunque c'è c'è una grande brutto termine ignoranza digitale cioè nel senso che non conosciamo in realtà quello che dobbiamo andare a cercare a vedere molto spesso condividiamo senza andare a vedere se quello può essere una bufala o no è per questo che è stato aperto un sito che è www.bufale.it dove il mio amico e diciamo così collega Luca Mastinu molto spesso tira fuori cose molto interessanti da vedere perché molte notizie vengono smentite mi interrogo un secondo allora abbiamo un insegnante che dice giustamente sarebbe dovrebbe essere obbligatoria una formazione sui pericoli del web sia per gli insegnanti che oggi ovviamente si ritrovano di nuovo proiettati in una formazione a distanza e responsabili anche in qualche modo di questi ragazzini che stanno connessi e che fanno anche delle cose non sempre correttissime quindi screenshotare fare le faccette come dicevi tu prendere un po' in giro allora una volta esisteva il foglio ti facevo eccetera oggi è così dice sarebbe obbligatorio interessante anche per i genitori perché comunque è importante questa cosa io dico anche attenzione è vero che è importantissimo è vero che sarebbe utilissimo ma quando vengono fatti la partecipazione non è sempre così elevata quindi diamo delle indicazioni anche rispetto a questo e magari perché no se tu sei d'accordo fissiamoci un appuntamento di nuovo di video dedicato proprio video approfondimento per dare delle informazioni agli insegnanti e ai genitori specifiche sulla sicurezza e poi ci dice sarebbe anche interessante capire quando fidarsi o no a dare amicizia a chi ce la chiede ecco questo è un grandissimo dilemma allora mia figlia di solito mi chiama e mi dice scusami conosci tale tizio Caio perché mi ha chiesto l'amicizia su Facebook no non lo conosco ok allora non gliela do oppure sì lo conosco guarda è una persona affidabile sei sicura sì sono sicura guarda è una persona corretta eccetera però come possiamo fare veramente è una bellissima domanda grazie Lidia come possiamo fare così ad avere ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo e ovviamente dietro anche ad un account sappiamo bene che può esserci una finzione scenica completamente no anche il ragazzino eh di quattordici anni eh che mette tutte le foto del cagnolino potrebbe essere un uomo di cinquant'anni che ha un interesse per differente eh quindi eh c'è un modo così un'eventuale ipotesi qualche regoletta un piccolo vademecum che ci può dare eh qualche indicazione in merito a a questo sul sul mettersi in relazione con le persone a livello digitale sì ehm allora questa formula del prendere dentro persone che non conosciamo ehm è nota dai dai tempi ancora quando non esiste Facebook vi parlo di data e varia il famoso clip fishing cioè la pescata tramite il il clip del link che viene messo la foto vi discorrendo molto spesso il più delle volte ci sono ehm degli utenti che non hanno la foto profilo ok e perché magari non vogliono metterla ma non possiamo sapere se in realtà è un è un profilo eh reale o un profilo fake però possiamo vederlo tranquillamente perché il profilo fake è quello molto spesso appena aperto che non ha amicizie che segue solo ma ha pochissimi follower in Facebook per esempio si identifichi in questo modo esattamente come in Twitter o in Instagram eh comunicare con questa persona per me di prendere un'amicizia cioè scrivere e chiedergli chi è è la cosa migliore chi conosci è perché mi hai cercato chi conosci dei miei contatti se conosce un contatto con cui non abbiamo mai avuto nulla a che fare non mi interessa si blocca e via se però conosce la zia Peppina che è cugina di zio Berto e la nonna di zia Luisa allora sì possiamo accettarla e vedere vedere il primo comportamento al primo errore si segnala e si blocca i vostri figli fanno un numero loro cercano un numero non guardano cosa prendono dentro ed è la cosa più pericolosa del mondo perché basta una foto anche solo in costume che arriva sempre quello che gli scrive oh eh anch'io al mare vado lì oppure sono così ti mando una mia foto gli mandano una foto magari prese in rete o addirittura come è successo a uno degli ultimi eh le ultime cose con cui ho lavorato dove una persona anziana mandava le foto dell'ipote morto per spacciarsi per lui per appunto eh andare a ad abbindolare questa questa ragazzina ehm per quanto riguarda i ragazzini gli adolescenti dobbiamo essere noi a controllare quello che fanno sono loro a chiederci come ha fatto ehm Violante e devono chiederci è affidabile non è affidabile allora così riusciamo ad avere una web education all'interno della famiglia non solo su una persona o sugli adulti perché è molto importante questo ok altra cosa bisogna anche un attimo a ragionare sulle cose se io sono pianoforte sono musicista oppure che ne so sono un pescatore mi piace andare a pescare quella amicizia lì è uno che ha le foto che va a pescare perché gli piace fare quella cosa ha 1500 amici e tra quei 1500 vedo le foto anche di altre perché dovete sondare prima di andare a cliccare ok c'è la possibilità di fare un gioco su un profilo se un profilo è chiuso gli si chiede via mail se un profilo è aperto andiamo a vedere andiamo a farci capo di loro come loro vengono a farci i nostri ok il web è anche questo se ho una fonda aperta riesco ad andare a vedere sono un conto chiuso vedo fino a un certo punto ok e e questa è la cosa da da guardare per quanto riguarda gli insegnanti e gli allunni io per esempio faccio formazione nelle scuole dal 2005 dove faccio le seconde e le terze medie da quest'anno ho fatto faccio anche la prima media due anni fa prima che ci fosse questo lockdown dico due anni fa ma in realtà era febbraio del 2019 febbraio marzo prima che che venissimo a conoscenza di questa cosa ho fatto anche le prime medie ho fatto anche le punite elementari e ho sempre fatto anche i genitori e in separata sede gli insegnanti all'interno delle scuole perché sta alla scuola a decidere che quella cosa è obbligatoria e in Veneto per esempio è una di quelle cose che è diventata obbligatoria come l'è diventata in Viglia Romagna io spazio in tante cose io per esempio in Veneto ho fatto anche tante formazioni all'interno dei comuni dove mi chiedono di fare qualcosa per i genitori e anche per le persone anziane perché le persone anziane sono soggette ad essere a rischio molto più di quello che sono le persone i ragazzini vi spiego perché se io ho una mamma ed è anziana ho un papà che è anziano ed è su Facebook è preso di mira da persone più giovani che si mostrano più giovani ma in realtà sono malfattori che capiscono la loro solitudine cominciano a scrivergli in privato gli stanno dietro e questo qui cade si innamora di quel soggetto perché tanto quel soggetto chatta tutto il giorno con loro ma non è il soggetto sono tre o quattro soggetti che si mettono d'accordo e si scambiano i tempi per poterlo fare e molto spesso arriva a un certo punto che questo soggetto dice ah io non posso star più qui sono molto malato non mi posso più permettere il computer lo vendo perché non ho soldi e l'anziano cosa fa? per aiutarlo manda soldi noi abbiamo avuto denunce per migliaia e migliaia di euro spedite a persone che non si sa dove siano molto spesso sono in Romania in Bulgaria o in altre zone dove sono stati spediti i soldi ed è difficilissimo poter recuperare questa cosa per cui state attenti anche gli anziani non solo i giovani ok? quando scrivete i dati di una carta di credito non salvatela mai su un computer neanche nelle cose più rinomate come per esempio il portachiavi dell'Apple mai è una cosa sbagliatissima perché basta un malware all'interno del computer che le prende anche l'Apple non è vero che è immune dai virus basta un malware all'interno che voi ogni volta che digitate e richiamatela a passo lui la copia vi vuota il conto ok? non abbiamo più molto tempo per fare queste cose qui però una cosa che voglio dire è questa sicuramente riusciremo a fare neanche altre di queste cose e io mi sai benissimo che sono sempre a tua disposizione grazie per quanto riguarda la sicurezza signori miei non affidatevi solo ai social network basta digitare i canali per esempio il commissariato dps.it commissariato di polizia dove c'è la polizia postale che mette tutti gli articoli e anche tutte le cose che sono successe che voi non leggete in giro ci sono blog come per esempio il mio o altri blog importanti che vi aiutano a capire quali sono le sicurezze da adottare poi ci sono i blogger che sono quelli più presi in giro in assoluto vi faccio un esempio si è fatto un gran parlare fino a un anno e mezzo fa di un tale che è mio amico lo conosco molto bene che si chiama Salvatore Ranzulla perché fa i post sui computer di qua di là lo prendevano tutti in giro sfido chiunque di voi che non sia mai stato almeno una volta sul suo blog a prendere informazioni su qualcosa che non sa fare parli di uno dei miei amici più cari è una delle interviste proprio sul sul mio libro nel senso che Salvatore e poi la vita insomma gli ha dato ragione sul fatto che sapeva il fatto bene però voglio dire hai ragione cioè questa parte qua e sarebbe bellissimo c'è un'area da aprire di discussione molto importante più sei noto nella rete più sei seguito nella rete e più sei oggetto di hating in maniera impressionante anche questa parte qua fa parte dell'ascolto no? Attenzione poi ad utilizzare a valutare bene qua meriterebbe un approfondimento sull'educazione al anche ai ragazzi ma anche all'adulto di attenzione quando sei come dire commentato in maniera aspramente giudicato in maniera aspramente all'interno del web e tu ti senti in grande difficoltà a come poter reagire a questa cosa sia principalmente da un punto di vista psicologico perché è una pressione elevatissima e secondo da un punto di vista anche di come mi tutelo come dicevi tu prima oggi il web ha tutta una serie di penale e civile che ti permette di insomma di avere una tutela importante e questa cosa qua dobbiamo ricordarla ricordarla sempre ma soprattutto proprio a livello psicologico e purtroppo la cronaca ci ha raccontato tantissimi episodi di come attenzione uno riesce a reagire a delle situazioni di hating feroce di presa in giro di cyberbullismo ahimè ne abbiamo tantissime di storie purtroppo finite male ma anche e qua si apre tutto un capitolo questi giochi pericolosissimi nei quali a volte i ragazzi finiscono e credono di non poterne uscire allora come si esce da una situazione e questa cosa qua forse ti direi se tu sei d'accordo mettiamoci un un appuntamento dedicato per esempio come si esce da una situazione di tra virgolette ricatto via web via chat come si reagisce ad una situazione di in qualche modo sei vittima no di 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 un ricatto psicologico da parte di questi giochi e immagino che tu ahimè ne vedrai tantissimi ecco giusto per chiudere ma darci qualche indicazione su come affrontare questi aspetti e poi così possiamo salutare i nostri i nostri ospiti allora per i genitori innanzitutto a parte controllare sempre quello che fanno i vostri figli dovete insegnare i vostri figli che se un ragazzino o una ragazzina ha delle debolezze e va male a scuola o a qualcosa che non funziona non è da prendere in giro è da aiutare e qui passiamo all'analogico perché se voi aiutate i ragazzi a crescere diminuisce questa cosa del del cyberbullismo ma se vostro figlio va dentro gruppi e tiene la parte di altre persone che prendono un giro un altro ragazzino voi non avete idea di quello che scatena nella mente della vittima questa cosa perché la vittima purtroppo non parla con i genitori perché ha paura che gli venga tolta la rete è quello il problema di adesso ok altra cosa particolare è costretta a stare a 24 ore su 24 collegata a un telefono per vedere quello che gli altri dicono perché un elemento solo dorme di notte 20 elementi molto spesso non dormono tutti insieme e hanno tempo per prendere in giro la vittima questa è una cosa da tenere presente ma io farei un approfondimento su cyberbullismo un'altra volta per quanto riguarda le famose challenge come per esempio la cosiddetta ballena blu la bluel o tante altre cose dobbiamo tenere sempre fare una cosa con i nostri figli vogliamo usare il digitale impariamo da loro a usarlo ok quando ci chiamano papà vieni a vedere questo video su youtube non diciamo di no andiamo a vederlo perdiamo tempo perché ricordiamoci che i nostri nonni i nostri segnatori leggevano le favole investiamo tempo no perdiamo tempo usiamo il termine corretto perdiamo nel senso che dedichiamo facciamo una cosa del genere investiamo del tempo in queste cose perdiamo delle cose lo so è noioso perché c'è magari quel cantante che non ci piace che fa quello però molto spesso capita che vostro figlio guarda per esempio quegli elementi che vanno in cima sui palazzi si aggrappano le tene e diventa un'emulazione esattamente come quando si buttano sui binari del treno arrivando alla fine finché non arriva il treno per buttarsi fuori quanti morti abbiamo avuto andate a leggere su internet andate in rete digitatele queste cose che da lì vedete le informazioni poi di tutto il resto delle cose perché per quanto riguarda le forze dell'ordine i formatori come me ci mettiamo a tutto l'impiegno possibile ma l'aiuto deve essere anche da parte vostra deve essere da parte dei genitori oltretutto non sapete una cosa volete sapere come funziona tornate al cartaceo abituatevi a leggere come dovrebbero fare i vostri figli perché ci sono delle cose dei libri dove parlano degli argomenti specifici su come sfruttare delle applicazioni qui metto in mezzo anche l'azienda come sfruttare delle applicazioni come arrivare a un determinato tipo di follower come vedere cosa succede all'interno della rete sul tuo canale o sulla tua pagina di facebook oppure sul tuo blog e qui tiro fuori oltre il tuo libro Francesca che è molto interessante non vedo l'ora di averlo tra le mani autografato io voglio farvi vedere un paio di cose molto semplici la prima è questa rischi e opportunità del web 3.0 è un libro molto interessante semplice sono letture semplici non sono complicate e da qui qui sopra c'è un po' di tutto c'è scritto come può essere sfruttato il web come si può essere messi in condizioni di avere un web pulito poi volete un elemento semplice cos'è il web cos'è un'applicazione tipo per esempio perché la gente si fa i cosetti selfie perché è importante fare un selfie fatto bene per non essere preso in giro e qui c'è per esempio il mio amico Tommaso Sorchiotti che ha scritto questo libro che è molto interessante dove parla appunto di come si sfrutta un selfie l'immagine è una delle cose che dobbiamo avere in rete non parlo di bellezza parlo di un'immagine giusta e pulita dove non ci sono le cosette cavolate si può anche scherzare perché per l'amor di Dio Facebook è un post dove si scherza si ride però facciamo sempre attenzione comunque e qui se voglio andare in conclusione perché lo torno a dire di nuovo a quello che postiamo perché ricordatevi che non solo la vostra faccia rimane in rete ma anche tutta la vostra vita adesso vi metto un attimo a paura quando i vostri figli fanno filmati su TikTok e fanno i balletti su Instagram nelle storie molto spesso li fanno da casa magari in abiti succinti e già li si mettono a rischio ma molto spesso io noto che le fanno all'interno di sale dove ci sono dei quadri di valore dei televisori di valore degli oggetti di valore e loro non ci fanno caso ma chi guarda il filmato si adesso non potete andare via e siete salvi perché il nuovo decreto non lo permette ma quando andate in ferie tranquilli un buon 35-40% di furti nelle case è dovuto proprio a un filmato visto in rete e l'hanno autorizzato i vostri figli e stessa cosa fate voi perché quando postate voi adulti i filmati del nipotino che corre nudo sul bagnasciuga o della figlia in costume che bella ragazza sta crescendo sappiate che la mettete a rischio e questa è una cosa che dovreste tenere presente anche perché i vostri genitori una volta avevano una fotografia in carta la vedevano loro e chi pareva loro adesso la foto digitale la vedono tutti migliaia e migliaia di persone molto spesso milioni ok? grazie Fabio come sempre sei stato preziosissimo ci hai dato tutta una serie di appunto di spunti di riflessione tanti tanti mi fai venire una voglia pazzesca di invitarti di nuovo a parlare per un altro approfondimento e a coinvolgere tutta la comunità anche degli insegnanti dei genitori perché si apre un mondo e abbiamo tutti bisogno di educazione digitale e questo è è fondamentale e che dire guarda grazie infinite seguite naturalmente tutti il blog di Fabio perché sicuramente ne vale ne vale la pena grazie ancora grazie a te poi ci sentiamo sa che io sono a tua disposizione quando vogliamo molto permettieri grazie grazie a tutti e a presto grazie ancora grazie ancora